Non è da sottovalutare, perché sono strette le curve. Vediamo come fa il tronco. Carca! Un po' corta però c'eri. Arrivo! No, aspetta, ripartiamo da qua. Sai che fai la curva dietro qua? Seguimi adesso. Andiamo! Giù di qua. Limite posizionato in diretta al limite. Giù di qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.